Andiamo, scegliamo giù nel Salento, noi facciamo un viaggio un po' nella musica popolare e abbiamo anche una piccola sorpresa tra un poco, abbiamo degli ospiti, degli ospiti tra un poco si preparano tra un poco e adesso prima facciamo una pizza in San Vito La chitarra fa a te 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 La chitarra fa a te